Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che sul mio canale è discusso molte volte e so che interessa a tantissime e tantissimi di voi perché me lo richiedete in continuazione e avevo già parlato di più o meno questo argomento qualche tempo fa, è passato un bel po' di tempo e quindi ho fatto un aggiornamento, anche perché film e serie tv che seguivo, che ho visto prima sono cambiate, sono in continuo svolgimento. Tempo fa vi avevo pubblicato su Instagram una lista di film e appunto serie tv che vi consigliavo però moltissime mi avete detto che vi sarebbe interessato sentirne un po' di più, le mie impressioni, i miei consigli e quindi ve ne parlo meglio anche qui. Come penso sapete già io seguo davvero tante, forse troppe serie tv però è una delle mie passioni più grandi insieme appunto al cinema. Il mio genere preferito in assoluto tra tutti è il fantasy e la fantascienza, più fantasy ecco tipo vampiri, fatine e tutte queste cose magiche con poteri e cose ecco è la cosa che più di tutte mi cattura però mi piacciono tanto anche i film romantici quindi quando poi mischiano queste due cose per me è tipo la vita. Sulle note del telefono mi sono fatta questa lista che appunto vi avevo già pubblicato anche su Instagram con tutti i film, sono tipo tantissimi e altre tante serie tv che sono un po' di meno naturalmente per ovvie ragioni però sono appunto le mie preferite e quelle che seguo. Quindi io direi di iniziare con i film più consigliati, tutti i titoli dei film e idem delle serie tv ve li scrivo comunque qui sotto nell'info box, proprio tutti quelli che mi vengono in mente magari più avanti la riaggiornerò o farò un altro video comunque per ora la trovate appunto qua sotto così vi è più facile anche capire i titoli per ora ve ne parlo e vi metterò anche la luogandina del film stessa cosa per le serie tv così se la volete ritrovare potete farlo insomma non vi sbagliate partiamo con i film che hanno anche un seguito quindi di un singolo film ci sono più film appunto tra i più consigliati vi dico Twilight che penso la conoscerete un po' tutti Le Gronache di Narnia idem poi abbiamo Maze Runner e Divergent che sono tra i miei preferiti in assoluto soprattutto Divergent mi piace tantissimo proprio come trama ho anche letto i libri quindi top poi abbiamo Thor uno dei miei preferiti sempre della Marvel che è una compagnia che sforna film sui supereroi quindi come può non piacermi poi abbiamo Sex and the City che anche qui un film è più bello dell'altro idem Mingers poi abbiamo X-Men che insieme ad Avatar sono in assoluto i miei film preferiti poi abbiamo Percy Jackson Dragon Trainer che è uno dei cartoni che ho in questa lista perché ce ne sono anche altri però questo appunto è quello che ha più di un film poi passiamo a The Sundance che anche qui bellissimo della Disney quindi è fantastico tutto quello della Disney per me è top poi abbiamo Harry Potter anche qui molto probabilmente piacerà un sacco di voi già l'avrete visto se non l'avete visto siete proprio delle persone cattive poi abbiamo The Avengers appunto che fa parte sempre della Marvel Now You See Me che è molto bello parla praticamente di questi maghi tra virgolette cioè non c'è niente di magico però è davvero fatto benissimo soprattutto il secondo è in assoluto il mio preferito vabbè ce ne sono due quindi non è che ce ne siano altri però il secondo c'è una scena soprattutto dove si passano la carta che è bellissima cioè io a volte me la vado proprio a ricercare su YouTube poi abbiamo Voices più conosciuto come Peach Perfect adesso sta per uscire il terzo film è molto particolare se vi piacciono lo stile Glee queste cose così è davvero carino 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 poi abbiamo Una Notte da Leoni che in assoluto è uno dei film che più mi divertono qualcosa di incredibile cioè io rido dall'inizio alla fine è fenomenale anche gli attori sono bravissimi sono molto conosciuti quindi top poi abbiamo Cattivi Vicini anche qua è sempre sullo stile commedia americana c'è anche Zac Efron quindi più di questo non so che dirvi poi abbiamo Pirati dei Caraibi Guardiani della Galassia anche questi due sono tra i miei preferiti mi piacciono tanto Fast and Furious insieme a Avatar X-Men è sicuramente tra i miei film preferiti poi abbiamo Underworld che non è tanto conosciuta o meglio sono dei film che iniziano da parecchi anni fa però anche questo è molto 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 sul genere fantasy e mi è piaciuto davvero tanto soprattutto l'ultimo film mi è piaciuto tantissimo perché proprio riprende il penultimo adesso non so come spiegarvelo bene perché non posso farvi spoiler logicamente però vi invito a vederli tutti non mi ricordo se sono 4 o 5 comunque sono un po' di film ma anche lì tipo stile vampiri licantropi molto molto belli poi abbiamo Ice Cold Musical che vabbè anche qui non c'è bisogno di spiegarvelo penso Camp Rock idem poi abbiamo Hunger Games che è molto sulla scia divergent perché secondo me si riprendono abbastanza anche se poi vabbè i finali le storie sono diverse però super super bello e se avete Netflix adesso hanno aggiunto anche alcuni film di Hunger Games quindi sì ve li consiglio ah vabbè tutti questi film logicamente potete trovarli in streaming potete alcuni penso vederli al cinema perché alcuni devono ancora uscire sono usciti recentemente e alcuni appunto su Netflix quindi se lo avete è un'aggiunta in più poi abbiamo Star Wars io ho iniziato a vederli l'anno scorso perché per l'anniversario dell'ultimo film avevano messo tutti gli altri quelli prima perché anche questo parte da un po' di anni fa su Sky quindi li ho visti tutti li ho recuperati mi piace davvero tanto 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 anche questo molto fantascienza è un film speciale perché ha fatto appassionare tantissime a questo genere quindi ve lo straconsiglio tra l'altro l'ultimo che è non so se sarà l'ultimo proprio della saga l'ottavo film di Star Wars uscirà a dicembre quindi non vedo l'ora poi abbiamo Superman, l'uomo d'acciaio queste cose qui che adoro idem Spider-Man ce ne sono diverse versioni hanno cambiato più attori a Spider-Man che non si sa chi però ogni film secondo me ha il suo perché quindi mi piace e questo era tutto per i film che hanno un continuo, un seguito che sinceramente sono quelli che preferisco perché quando ho un film soprattutto che magari è potenzialmente continuabile non gli fanno un seguito è un colpo al cuore perché io voglio vedere cosa succede dopo e infatti adesso vi dirò i film che invece non hanno un continuo ancora per adesso poi non so se usciranno abbiamo Passengers mi è piaciuto tanto è uscito se non quest'anno l'anno scorso non mi ricordo perché ho una memoria molto breve però bello 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 con Jennifer Lawrence che è una delle mie attrici preferite poi abbiamo Fallen non mi è piaciuto tanto ma se mi seguite su Instagram sapete che i libri li ho mangiati come niente cioè mi sono piaciuti tanto infatti mi è dispiaciuto che il film non sia purtroppo all'altezza spero facciano un continuo per ridare un po' credibilità a questo titolo poi abbiamo Vampire Academy anche questo l'ho visto recentemente però è un po' vecchiotto anche di questo ci sono i libri che mi avete detto essere molto meglio del film però il film mi è piaciuto abbastanza insomma carino quindi vedremo se faranno un continuo tra l'altro una delle attrici è la ragazza che ha fatto un altro film che mi piace che si chiama Prima di Domani e anche recentemente la conoscerete perché ha recitato come protagonista nel video Perfect di Ed Sheeran tra l'altro canzone che mi è entrata nel corazon poi abbiamo Beautiful Creature questo lo trovate sicuro su Netflix perché ho visto l'altro giorno ma l'avevo già visto in passato mi piace tanto poi abbiamo The Host Upside Down lo spazio che ci unisce anche questo su Netflix se non mi sbaglio è proprio originale Netflix poi abbiamo Valerian e la città dei mille pianeti sono sicura che l'abbiate visto un po' tutti perché c'è Cara della Vigne lui non mi ricordo come si chiama però super amato è uscito abbastanza recentemente però non lo trovate più penso nei cinema poi abbiamo Maleficent anche qua uno dei miei preferiti perché c'è Angelina Jolie particolare come film perché si tratta comunque della storia della bella addormentata che conosciamo un po' tutti però da un altro punto di vista e mi piacerebbe tantissimo lo facessero tipo per tutti i cattivi Disney sarebbe troppo top Maximal Ride è un film anche questo mi pare l'ho trovato su Netflix girovagando un po' perché ne cercavo uno da vedere così abbastanza tranquillo mi piace ma spero facciano un continuo perché non si è capita bene la storia ecco poi abbiamo Come d'incanto anche questo uno dei miei preferiti sempre molto romanticoso principessoso e quindi ve lo devo per forza dire anche questo penso lo conosciate purtroppo hanno fatto soltanto un film ma spero lo facciano perché merita merita tanto poi abbiamo questi che sono commedie super americane che quando volete farvi una risata sono perfette La Coniglietta di Casa top La Rimicela delle Bionde ancora più top però ecco una cosa che mi so scordata di scrivere è che di questo ci sono due film ne sono sicura La Rimicela delle Damigelle A Cinderella Story ce ne sono varie versioni la mia preferita tra tutte è quella con Hilary Duff e quel super fregnone che adesso mi sfugge il nome un'altra di queste che mi pare si chiami A Cinderella Story If the Shoes Fit dovrebbe essere con Sofia Carson che è una delle ragazze appunto che ha recitato anche In Descendants anche questo mi era piaciuto poi abbiamo Avatar se mi conoscete sapete che è il mio film preferito di tutti quanti cioè unisce tutto tutto quello che amo è un film molto particolare quando è uscito nel 2009 è stato tipo innovativo al 110% cioè davvero è stato qualcosa di fenomenale io lo dirò sempre è totalmente fuori dal comune è fantastico e dovrebbero uscire due film prossimamente perché comunque è una tipologia di film che necessita tanto lavoro tanto editing quindi posso capire che ci abbiano messo tipo una cifra di tempo per creare il continuo di questo film però ci deve essere perché per come è finito e se lo avete visto saprete cosa farlo ci deve essere per forza perché sennò mi sento malissimo poi abbiamo Beastly anche questo mi è piaciuto tanto uno un po' sciocchino se vogliamo dirlo così non è proprio di questo gran spessore però è carino è Radio Rebel poi abbiamo anche qui ripartiamo con i film sui supereroi e cose del genere persone con poteri straordinari che adoro e abbiamo Wolverine che sarebbe diciamo un po' lo spin off se così vogliamo dire di X-Men però appunto con Wolverine con Logan poi abbiamo Catwoman anche di quello mi dispiace non ci sia tipo una sorta di continuo perché sarebbe fighissimo però il film mi è piaciuto tanto mi ricordo quando l'avevo visto da un po' più piccola mi ero un po' spaventata perché c'è una scena un po' particolare non posso dirvi niente però stupendo l'ho ricordato tra l'altro pochi giorni fa poi Wonder Woman che ultimamente ha fatto il boom insieme anche al film dove c'è sempre lei Justice League che mi è piaciuto tanto l'ho visto adesso ci dovrebbe ancora essere al cinema sono fissata Aquaman è diventato il mio nuovo supereroe preferito e non solo chi è che non ama Jason Momoa insomma comunque lei è davvero carinissima ci sta perfetta in questo ruolo l'attrice non mi viene adesso il nome si chiama tipo Galdot qualcosa del genere non la trovo più su Instagram poi comunque il film è fighissimo e appunto hanno ripreso alcuni pezzi alcuni anche personaggi del film Wonder Woman e le hanno messi in Justice League e ho adorato follemente io adoro Ippolita adoro lei adoro anche che piccola chicca se non lo sapevate nel film poi anche in Justice League hanno preso soprattutto una modella di Victoria's Secret in particolare che è tipo la mia preferita e l'hanno messa nel film una genialata poi abbiamo Baywatch è uscito recentemente anche questo sempre con Zac Efron con The Rock è un film molto ironico però allo stesso tempo c'è una bella storiella dietro insomma interessante anche questo quando vi volete fare due risate poi uno di quelli che forse recentemente mi è piaciuto di più apprezzerei tanto facessero un continuo proprio incrociato di dire insieme a me Power Rangers io vabbè quando ero piccolina seguivo sempre le puntate in tv quando tornavo da scuola non vedevo l'ora di vederli se siete più o meno del mio stesso anno penso potrete capirmi ho adorato il film mi piace tanto come l'hanno pensato ho fatto molto bene naturalmente in quanto effetti speciali grafiche montaggio eccetera Cenerentola logicamente è un altro di quei film insieme a La Bella e la Bestia che hanno rifatto ultimamente molto carini adoro questo fatto che ultimamente stanno facendo stanno più che altro rifacendo ricreando i film Disney però con dei personaggi reali però una piccola cosetta visto che il mio film Disney preferito il mio cartone preferito è La Sirenetta gradirei lo faceste però bene perché è uscito non ancora qui in Italia però in America dovrebbe essere uscito il film proprio The Little Mermaid si chiama però è una cavolata cioè non c'entra niente con la storia reale infatti questa cosa mi ha distrutto però staremo a vedere se faranno una versione fatta meglio poi abbiamo In Time che mi è piaciuto tanto è anche questo di forse 4 anni fa non mi ricordo comunque non è proprio recente ma non è neanche vecchiotto molto carino anche Adeline e l'eterna giovinezza mi pare si chiami è molto bello idem per Miss Peregrine io ero stata invitata tramite Team World all'anteprima di questo film dove c'era anche Tim Burton io amo i film di Tim Burton sono uno più speciale cioè neanche belli proprio speciale dell'altro ha questa non lo so quest'idea di macabro che però non è che ti fa paura ma è molto bella dovete vedere sia i cartoni sia i film di Tim Burton tra cui abbiamo sicuramente molto molto conosciuti Edward mani di forbice la sposa cadavere potrei andare avanti all'infinito quelli un po' più romantici tipo ho cercato il tuo nome anche questo mi pare con Zac Efron forse da Piannisteo poi Idem la risposta è nelle stelle top poi abbiamo anche qui riprendere un po' la Disney Biancaneve il cacciatore la vera storia di Biancaneve e Biancaneve Mirror Mirror sono tre totalmente differenti King Arthur anche questo abbastanza recente dovrebbe essere di quest'estate mi è piaciuto tanto aspetto il continuo perché l'attore è uno stragnocco assomiglia molto a quello dei Maclamour però secondo me 2.0 quindi è ancora più figo poi abbiamo la mummia però la versione del 2017 anche di quella dovrebbe per forza per come è finito esserci il continuo però staremo a vedere mi è piaciuto però non gli darei un 10 su 10 potevano fare meglio secondo me soprattutto alcune cose non erano molto chiare però possono migliorare sul secondo lo spero poi abbiamo anche tra questi molto romantici Dear John che invece è con Channing Tatum che tipo raga parliamone sempre citando alcuni dei suoi film sicuramente lo conoscerete voi Femminuzze Magic Mike e Magic Mike XXL film che per ogni donna dovrebbe essere tipo Sacra Sindone no vabbè a parte gli scherzi secondo me da vedere con le amiche sapete quei film un po' così ci sta poi abbiamo Aquamarine anche questo è abbastanza vecchiotto l'hanno messo su Netflix se non sbaglio e parla della mia cosa preferita in assoluto nel mondo dopo i supereroi dopo il fantasy dopo le storie d'amore cioè le sirene poi abbiamo Anna Montana The Movie se anche qui quando eravate piccole seguivate Disney Channel vedevate Anna Montana sempre ecco questo è il film che vi siete perse se non l'avete visto perché l'ho visto tipo 10 forse anche 12 volte perché c'è una bella storia d'amore anche lì poi vabbè Miley sempre nel cuore poi abbiamo Suicide Squad l'85% delle persone che l'hanno vista l'hanno adorato Joker and Harley Quinn e io voglio uno spin off su questa storia perché adoro poi abbiamo Doctor Strange non l'ho ancora visto ma fa sempre parte della Marvel c'era anche nell'ultimo film o lo posso dire questa cosa vabbè ormai ve l'ho detto c'era anche nell'ultimo film di Thor Ragnarok cioè ha fatto tipo una piccola parte però mi è piaciuto abbastanza tra gli ultimi film che ho scovato e che ho visto adorato abbiamo 17 anni e come uscirne vivi con Ailey Steinfeld che fa anche appunto Pitch Perfect che mi piace tanto anche come cantante adoro le sue canzoni e poi abbiamo Fottute con una ragazza che fa sia la comica sia l'attrice ed è bravissima si chiama Amy qualcosa però è bravissima mi piace molto adesso passiamo alle serie tv che so che magari è la vostra parte preferita quando la sera non si sa cosa fare o un pomeriggio soprattutto adesso che fa magari tempo un po' più brutto le serie tv almeno a me salvano sempre cioè io ne inizio una nuova diciamo più o meno ogni due settimane ciò vuol dire che ne vedo parecchie non vado in ordine di gradimento però quando magari leggo quella che mi piace un po' di più che seguo con più piacere più che altro perché alcune magari le inizio a vedere poi le accantoano poi le riprendo invece ci sono quelle che seguo assiduamente tipo che ne esce un episodio a settimana lo devo vedere subito adesso le scoviamo tra cui appunto come primo nome abbiamo American Horror Story delle serie tv cercherò di spiegarvi un po' anche la trama però sono tante se no questo video viene un po' troppo lungo quindi vediamo cosa riesco a fare American Horror Story probabilmente è una di quelle più conosciute ha degli attori belli di uno spessore abbastanza rilevante e praticamente non è una serie diciamo normale perché ogni stagione ha il suo tema la prima trattava di un tema la seconda di un altro il terzo di un altro e così fino alla settima finora ne abbiamo sette la settima si è conclusa tra l'altro la settimana scorsa se non sbaglio comunque molto recentemente però la cosa particolare è che in ogni serie anche se cambia il tema ci sono sempre gli stessi attori chi più chi meno e questa cosa è davvero molto molto figa le mie preferite in assoluto sono la stagione quella con Lady Gaga quindi American Horror Story Hotel American Horror Story Coven è in assoluto la mia stagione preferita ed è quella tipo a tema streghe e mi piace anche molto quella del circo l'ultima mi è piaciuta perché è un po' più particolare rispetto alle altre devo essere sincera infatti l'ultima si chiama Cult ed è la stagione più americana di tutte perché appunto tratta il tema delle elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti quindi tra diciamo Trump Hillary Clinton queste cose così poi abbiamo The Originals che è lo spin-off di un'altra serie che invece si chiama The Vampire Diaries che è in assoluto la mia serie tv preferita purtroppo si è conclusa quest'anno però alcuni personaggi sono sicuri appunto li sposteranno un po' nello spin-off appunto che è The Originals tratta di questo argomento vampiri storie d'amore licantropi chi più ne ha più ne metta è una delle serie fatta secondo me in modo migliore cioè anche come continuità perché fare otto stagioni di una serie è impegnativo cioè devi avere gli argomenti anche di questa serie ci sono i libri le persone diciamo protagoniste di questa serie sono fondamentalmente tre però si susseguono tante cose tanti morti chi rivive chi ritorna però non vi sto a spiegare la cosa comunque sono principalmente tre Elena Gilbert Damon e Stefan Salvatore che sono due fratelli uno più gnoccolo dell'altro poi c'è chi si schiera dalla parte di Damon chi dalla parte di Stefan insomma la dovete vedere chi l'ha vista sotto mio consiglio mi è sempre rivenuto a scrivere la grazie perché adesso non mi stacco più dal computer per guardarla ed è vero poi abbiamo Once Upon a Time la prima stagione è stata in assoluto la mia preferita parla diciamo delle storie Disney o comunque fiabe insomma quelle cose un po' classiche però in chiave molto moderna molto anche questa è una delle mie preferite in assoluto però abbia ragione il mio personaggio preferito Regina sempre nel cuore poi abbiamo The Shannara Chronicles lo sto guardando ultimamente l'ho iniziato più o meno un mesetto fa mi è piaciuta molto mi sta piaciendo molto adesso è si è conclusa anche la seconda stagione aspetteremo la terza con impazienza molto carina dovrebbe essere una serie originale MTV come anche una delle prossime che vi dirò però molto molto carina potrebbero migliorare alcune cose tipo i trucchi soprattutto quelli fatti tipo il latex silicone questa vabbè è una piccola accortezza mia potrebbero migliorarli però vabbè ci passiamo sopra insomma e un'altra appunto originaria MTV che ha fatto il super boom perché è molto particolare molto fantasy molto licantropi e storie alle d'amore quindi molto da teenager è Teen Wolf anche questa è in assoluto una delle mie preferite anche questa è finita quest'anno purtroppo la fine non è che mi sia garbata più di tanto però diciamo nel complesso l'hanno fatta finire in modo abbastanza conclusivo cioè nel vero senso la parola perché a volte alcune storie le lasciano un po' così che non ti fanno capire bene invece questa dai nel complesso mi è piaciuta potevano fare meglio anche perché ci avevano abituati bene però molto molto carina poi abbiamo Jane the Virgin che se appunto vi è piaciuto Adam che è appunto il protagonista di Teen Wolf lo ritroverete anche in questa serie nell'ultima stagione che c'è adesso che dovrebbe essere la quarta stagione non vorrei dirvi una cavolata comunque è una serie che come dice il nome parla di questa ragazza Jane the Virgin più o meno per errori medici viene inseminata artificialmente e non si sa bene chi è il padre scopre chi è il padre Raffaele che è un gnoccone da paura che può piacere o no nel senso un po' di quelli così però è davvero carina 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 cioè ti prende proprio come serie perché succedono di ogni ci sono diverse persone che entrano escono e è fatto stile Tene Lovelas quindi anche lui può piacere come no ci sta tipo il narratore sotto la nonna di lei parla sempre solo in spagnolo quindi è sempre sottotitolata insomma un po' particolare però è molto carina poi abbiamo Modern Family che è super commedia americana è una serie un po' diversa dalle altre perché ogni puntata dura 20 minuti quindi è molto breve molto sulla scia comica non c'è una puntata in cui non ti scappa la risata quella isterica quella che tipo non finisce più perché ti fa proprio ridere soprattutto Phil Dunphy che è il padre di uno di questi nuclei perché appunto è una serie che tratta diversi argomenti ci sta il nucleo della famiglia gay la famiglia con una dei due tipo extracomunitari lei più piccola lui più grande famiglia diciamo normale tra virgolette quindi è interessante la cosa bella di questa serie è che non c'è diciamo un filone se la seguite dalla prima puntata all'ultima è meglio però potete anche prendere i singoli episodi e guardarli così spezzati perché appunto non c'è un vero e proprio continuo poi abbiamo Good Witch la trovate su Netflix però non ci sono tutte le stagioni è una serie un po' particolare secondo me è un po' da grandi nel senso se avete sui 12 13 anni probabilmente la potete guardare ma non la capireste fino in fondo almeno a mio parere e poi posso sbagliarmi però a me piace piace molto perché appunto è molto matura come serie tv è un termine diciamo non proprio usato per le serie però ci sta poi abbiamo una delle mie nuove scoperte che devo ringraziare chiunque me l'abbia mai consigliata tra cui voi tra cui mie amiche tra cui persone e davvero non so come ho fatto a vivere finora senza vedere questa serie sto parlando di Game of Thrones super seguita super parlata e chiacchierata perché ne succedono di ogni anche qui molto fantasy molto medievale ed è una cosa che adoro non è ambientata appunto nei giorni d'oggi anzi però è bella proprio per quello come spiegarvela questa è un po' complicata perché ci sono diciamo c'è questo regno ok mega regno ogni pezzamento di questo regno è monitorato comandato non so bene come dirvelo da una famiglia importante in questo caso ce n'è più di una diciamo quelle un po' più citate sempre in ogni serie sono Lannister Targaryen i miei preferiti sempre nel cuore e gli Stark anche quelli li adoro follemente e dovete vederla se volete capire perché un bel po' intricata questa cioè ci dovete stare dietro sono sette stagioni deve iniziare l'ottava bisogna aspettare un po' ci sono anche libri che mi avete detto essere fantastici infatti ho iniziato già a leggerli nell'attesa che ricominci la serie tv di questa i miei personaggi preferiti probabilmente sono assolutamente Daenerys Targaryen che dovete scoprire chi è Jon Snow che sarà sempre Jon Snow per me non mi cambiate Jon Snow e ci siamo capiti chi vuole capire capisce e Tyrion Lannister potete amarlo come no io tipo ogni volta che lui parla sto là come per dire cioè continua parla 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 quel piglio quell'intelligenza che adoro poi abbiamo Rhaene che anche questo è abbastanza medievale come il concetto Castelli Regine parla appunto dei Medici Regine Elisabetta tutte queste cose così che io personalmente adoro è una serie che è cambiata abbastanza dalla prima stagione ad adesso alcuni dei personaggi principali diciamo che appunto cambiano nel corso della serie però principalmente c'è sempre lei Maria non mi ricordo sapete come si chiama bene comunque Regina di Scozia che gli succedono un po' dei robe a volte anche sconvenienti quindi scoprite poi cosa succederà a questa povera donna perché davvero ogni volta che la vedo mi fa una pena immensa mi dispiace poi abbiamo The Andred o meglio conosciuta come Icento proprio italianizzato così praticamente parla di un'ipotetica fine della terra e un colpetto di persone si salva da vivere in uno spazio e adesso ve lo dico in parole povere però se sono stufati di vivere in uno spazio diciamo che le risorse stanno finendo e se rimangono lì muoiono tutti e quindi non devi evitare questo mandano un gruppo di ragazzi sulla terra e rilasciano gli sprovveduti fondamentalmente questo è però ne succedono di ogni scopriranno che non sono soli e vi dico solo questo è molto carina ultimamente sta un po' degenerando come serie rispetto all'inizio secondo me è cambiata tipo da così a così poi fatemi sapere anche le vostre opinioni riguardo tutto qua sotto nei commenti perché io mi leggo sempre tutto quanto però mi piace abbastanza i miei preferiti sono assolutamente Clark Lexa la mia coppia assolutamente preferita è Octavia Blake e Lincoln che è in assoluto il mio personaggio preferito di tutti poi abbiamo Famous in Love che è una serie che è uscita quest'anno con Bella Thorne è carina praticamente questa ragazza diventa famosa così da un giorno all'altro registra un film Hollywood cose quindi fa capire un po' questo mondo diciamo così poi abbiamo questa cioè non è proprio una serie nel senso è un programma tv che però come sotto forma di serie hanno messo su Netflix ed è una delle mie preferite perché proprio quando non sapete che fa ve la potete riguardare all'infinito si amate il mondo drag dovete vederla ma penso la conoscano un po' tutti ormai ed è RuPaul Drag Race non posso neanche dirvi quanto amo questa serie perché è il trash fatta serie è tipo la vita abbiamo così finito giuro sempre su Netflix abbiamo Grace and Frankie anche se dalla copertina può sembrare una serie assurda è super figa io ero molto scettica a iniziarla perché come copertina vedo ste due comunque signore di una certa età e dico oddio non c'entro niente ma è troppo fatta bene vi giuro tra l'altro le ultime puntate sono tipo la chiave per capire tutto per capire anche la copertina di questa serie dovete vederla anche questa vabbè magari un po' più da grandine super consigliatissima poi abbiamo Orange is the New Black è un'altra delle mie preferite trovate su Netflix è originale Netflix molto bella è una di quelle serie che ti apre proprio la mente e serve anzi dovrebbero guardarla un po' più persone adoro occhi pazzi la mia preferita nel cuore anche Red mi piace tanto poi abbiamo la serie del film Shadowhunters che anche il film prima non ve l'ho citato però mi piace tanto e vabbè mi sono scordata me ne sono scordata tantissimi però è davvero questo video durerà già tanto quindi io che parlo io ho la gola secca anzi fatemi bere comunque appunto la serie è ripresa un po' dal film anche se gli attori e anche la storia un po' in sé è diversa la prima stagione è fatta un po' malino quelle dopo sono meglio dovete vederla però perché gli attori sono uno più fregno dell'altro e poi è una di quelle serie che vi scorre abbastanza poi abbiamo Sex and the City che appunto se non lo sapete prima hanno fatto la serie e poi hanno fatto i film come fai a non amarle mia preferita Samantha in assoluto ci sono un bel po' di stagioni che le godi tutte quante perché ogni puntata ha il suo perché ogni puntata è favolosa se amate la moda New York frivolezze ragazzi sparlottamenti questa fa per voi quindi questo è tutto per questo video vi avrò tipo fatto una capoccia tanta vi ripeto tutto quello che ho citato lo trovate qua sotto insieme anche magari a qualche aggiunta che mi sono scurata di dirvi vi metto anche il sito di Netflix se volete e il sito dove guardo invece le serie tv che non sono su Netflix perché a volte me lo chiedete quindi vi metto tutto qua sotto spero questo genere di video non vi abbia annoiato io ad esempio ho un video che se qualcun altro lo facesse lo guarderei dall'inizio alla fine senza neanche schippare un secondo oppure mandare avanti lo guarderei basta perché a me piacciono poi ecco se vi ho annoiato fatemelo sapere perché è giusto se invece vi è piaciuto pollice in su e iscrivetevi se ancora non lo siete perché presto arriveranno tante chicche vi dico solo che qua ho due buste piene e pesano una cifra per il prossimo giveaway del 2018 quindi rimanete connessi e basta questo è tutto mi raccomando prima di chiudere il video andare a vedere un altro insomma le solite cose attivate la campanellina perché altrimenti youtube non vi segnala l'uscita dei video quindi se vi fa piacere insomma è una cosa in più io vi mando un grosso bacio vi rimando le vostre vite e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.